il presidente mattarella ed un grande presepe in legno interpretato in chiave moderna è opera dei due scultori trentini philip moro der dos e thomas comploi e dal giorno dedicato a santa lucia e nella casa degli italiani la natività esposta al quirinale fino alla vigilia dell'epifania si collega alla tradizione del presepe nella valgardena da sempre legata a quella della lavorazione artigianale del legno importante in questa valle quanto in tutto il trentino i visitatori hanno la possibilità di entrare nello spazio della scena sacra composta da figure stilizzate alte oltre due metri i due artisti l'hanno mostrata fieri al capo dello stato ed al ministro della cultura franceschini assieme agli amministratori della provincia autonoma di bolzano e della valle l'accesso alla mostra è gratuito ma è obbligatorio alla prenotazione al costo di un euro e 50 basterà collegarsi online sul sito del quirinale oppure chiamare il call center o rivolgersi presso il punto di informazione della salita di monte cavallo